Impostazioni di sistema Premendo l'icona ingranaggio nella barra superiore del menu del display, puoi accedere al menu delle impostazioni di sistema sul tuo IMRS Prime. Qui premi il pulsante Informazioni di sistema. Nella schermata successiva vedrai il numero di serie del tuo box connettori, la versione del firmware installato e la versione hardware del tuo pannello di controllo. Nell'area inferiore vedrai diversi pulsanti che puoi usare per riavviare, riaccendere o spegnere il tuo sistema, per esempio quando un programma non risponde più. Il pulsante Aggiornamento del sistema consente di installare aggiornamenti del firmware sul tuo IMRS Prime.